Musica Negozi aperti fino a tardanotte, il Consorzio Naturale Centro Storico incassa un altro successo con la Notte Bianca. Boom di presenze nel Centro Storico con acquisti di ogni genere allietati dalla presenza di artisti di strada e banda musicale che ha coinvolto soprattutto i bambini al centro della manifestazione e punto focale dell'organizzazione. Il Presidente del Consorzio Alberto Pagliaro ha fatto un bilancio della serata che è risultata più che positiva. E' andato tutto bene, comunque c'è stata affluenza, le persone hanno risposto come ogni anno e siamo contenti così. L'anno prossimo cercheremo pure un pochettino di vedere, di valutare di non accavallarci troppo con le altre manifestazioni perché quello forse è stata l'unica pecca di quest'anno che c'è stata la concomitanza con il concerto in cattedrale e quindi abbiamo dovuto evitare di fare alcune manifestazioni in piazza. Sicuramente l'anno prossimo riusciremo a programmare e vedere un pochettino di cercare di non accavallarci con le altre manifestazioni. Grazie a tutti!